27 gennaio, il giorno della memoria, eventi in tutta l'isola. I messaggi dell'Arcivescovo di Cagliari, del Presidente della Regione e del Sottosegretario della Difesa. Il 2025 è l'anno d'uscita dal carbone. La consiglia regionale del Movimento 5 Stelle Desiree Manca interviene su tutte le problematiche connesse al cosiddetto phase out. Alvia anche in Sardegna la sperimentazione degli anticorpi monoclonali. La Regione Sardegna ha autorizzato 11 centri, un ospedale per ciascuna azienda sanitaria, le due aziende ospedaliere universitarie e l'ospedale Brozzo. Per lo sport la Torres espugna fra gole e domenica sfida la capolista Giuliano. La squadra di Alfonso Greco si è imposta sul campo della Fragolese con il gol di Biachité e Scotto. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Oggi 27 gennaio è il giorno della memoria per non dimenticare in occasione della giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'olocausto che si celebra appunto oggi. L'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, rivolge un pensiero ed una riflessione alle vittime di quell'orrore. Una domanda scrive nel suo messaggio l'arcivescovo Baturi che si fa tanto più pressante se la si riferisce a particolari e dolorose pagine di storia come quella dell'olocausto. Oggi celebriamo il giorno della memoria per custodire ogni dolore e amore perché nessun volto venga dimenticato. Commemoriamo le vittime di quei crimini gravissimi e diamo onore a quanti si sono opposti, spesso a rischio della loro vita la follia omicida offrendo aiuto ai perseguitati. E vediamo un servizio sul giorno della memoria con gli interventi del presidente della regione Cristian Solinas e la sottosegretaria di stato della difesa Stefania Pucciarelli. Il servizio lo abbiamo realizzato con l'apporto importante delle fotografie di Auschwitz che sono state realizzate da Roberto Puddu. Oggi nel giorno della memoria ha detto il presidente della regione Sardegna Cristian Solinas abbiamo il dovere di riflettere e di ricordare l'orrore e le atrocità di cui è stato capace l'uomo in un passato che non è poi così lontano da noi e trovare la forza e la determinazione per far sì che il seme insidioso e abberrante dell'antisemitismo e dell'odio non trovi mai più terreno dove attecchire. Offenderemmo la memoria di tutti quegli innocenti portati alla morte, bambini, donne, uomini, anziani, se consentissimo al presente di mettere da parte il passato. Quella odierna deve essere una giornata di profonda riflessione che ci impegna non solo a tramandare la memoria della Shoah ma anche a riflettere sulle sue radici e sulle sue terribili conseguenze. Rivolgendosi ai giovani sardi il presidente della regione ha sottolineato l'urgenza di costruire ponti contro la violenza e sulla necessità, sempre vive impellente, di alimentare la cultura del dialogo e la pace. Sul giorno della memoria è intervenuta anche Stefania Pucciarelli, sottosegretario di Stato della Difesa. Il nostro dovere della memoria, ha detto, deve tradursi in un risoluto impegno di tutti e ciascuno per superare le forme di isolamento, intolleranza, esclusione sociale, discriminazioni, persecuzioni e violenze di cui continuano a essere vittime milioni di persone a causa di guerre, ciechi, estremismi, assurdi fanatismi ma anche di, apparentemente banali, pregiudizialità. Una responsabilità da onorare con deliberata convinzione, aggiunto, imperniata saldamente sulla lezione universale di strazianti sofferenze da mai dimenticare e replicare, facendosi promotori per una nuova era di pacifica convivenza e prosperità diffusa tra tutti gli appartenenti alla specie umana, senza distinzione di sesso, provenienza, credo, costumi, tradizioni e orientamenti di qualsivoglia sorta, ha concluso Stefania Pucciarelli, nonché tra essa ed il meraviglioso universo di cui è parte. Anche se impossibilitate a programmare eventi in presenza a causa del procrastinarsi della situazione critica legata alla pandemia da coronavirus, l'amministrazione comunale di Carbonia celebra la giornata delle memorie e commemora le vittime dell'olocausto con una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. Su proposta dell'assessorato della cultura dalle 10 stamane sulla piattaforma streaming della società umanitaria Sardegna, racconti di un viaggio dentro la memoria, è disponibile un documentario di 63 minuti che ha coinvolto ragazze e ragazzi sardi tra i 18 e i 25 anni, protagonisti dei viaggi nei luoghi chiave della Shoah che hanno dato la genesi ad un vero e proprio corso di formazione storica. Un'altra iniziativa gratuita, fortemente voluta dall'assessora della cultura Giorgia Meli, è prevista per domenica 30 gennaio alle ore 18 e 30 al Teatro Centrale, sempre a Carbonia, con l'organizzazione di uno spettacolo a cura dell'associazione culturale e teatrale Quinte Emotive. La performance si intitola Il processo ed è tratta liberamente dall'istruttoria un dramma documentario scritto da Peter Weiss dopo aver assistito al processo di Francofotte sul meno tenutosi dal dicembre 63 all'ottobre 65 sui crimini di guerra perpetrati dai tedeschi. Cambiamo pagina, entro il 2025 come è noto ormai da tempo, la Sardegna dovrà abbandonare il carbone per la produzione di energia elettrica. Un termine molto vicino che crea non pochi problemi per la continuità produttiva e l'approvvigionamento delle aziende isolane. Su queste problematiche è intervenuta oggi Desiree Manca, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa ha detto. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desiree Manca, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Cristian Solinas e all'assessora regionale dell'industria Anita Pili per chiedere, in vista del completamento del processo di phase out per la decarbonizzazione dell'isola, se non ritengano opportuno individuare e concordare con il Governo nazionale meccanismi aggiuntivi per sincronizzare tempi tecnici di costruzione delle opere con le date di consegna dell'energia alle future aste del capacity market. Il completamento del processo di phase out potrebbe avere pesanti ripercussioni sui lavoratori delle centrali termoelettriche della Sardegna, ha detto tra l'altro Desiree Manca. Come evidenziato dai segretari regionali di CGL e Cisle Will, le incertezze sulle prospettive delle centrali termoelettriche sono motivo di gravissima preoccupazione per il futuro occupazionale di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto, così come per le prospettive dell'intero sistema produttivo isolano. In particolare, per quanto riguarda la centrale termoelettrica di Fiume Santo, una delle dieci realtà economiche più rilevanti dell'isola, in cui sono impiegati circa 500 lavoratori provenienti dai comuni limitrofi. Gli esuberi, dovuti al processo di riconversione, arriverebbero a coinvolgere addirittura circa 460 dipendenti. Come sottolineato anche dalla società che gestisce la centrale di Fiume Santo, ha aggiunto Desiree Manca, l'uscita dal carbone non può avvenire dall'oggi al domani senza che siano state predisposte adeguate misure di tutela per i lavoratori. La questione energetica è di fondamentale importanza per il sistema produttivo e manufatturiero della Sardegna, pertanto chiedo al presidente Cristian Solinas, ha concluso Desiree Manca quali iniziative intende adottare per tutelare il futuro occupazionale di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto delle due centrali termoelettriche Sarde e chiedo che l'assessora Anita Pili riferisca in consiglio regionale relativamente allo stato di attuazione del processo di phase out del carbone in Sardegna. Parliamo dell'emergenza sanitaria, al via anche in Sardegna la sperimentazione delle cure con gli anticorpi monoclonali e i farmaci antivirali di ultima generazione per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. L'assessorato regionale della sanità ha individuato 11 strutture autorizzate alla prescrizione delle terapie, un centro per ogni azienda sanitaria a cui si aggiungono le due aziende ospedaliero universitarie dell'isola e l'azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione Brozu di Cagliari. Le somministrazioni degli antivirali e degli anticorpi monoclonali sono programmate nelle strutture ospedaliere e seguite da personale sanitario specializzato ed il target principale è quello dei soggetti che presentano fattori di rischio con un'alta probabilità di ospedalizzazione. Nel dettaglio i centri autorizzati sono l'ospedale Marino di Alghero, il Giovanni Paolo II di Olbia, il Nostra Signora della Mercedes di Lanusei, il San Francesco di Nuoro, il San Martino di Oristano, il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, il CTO di Iglesias, le Cliniche San Pietro di Sassari, il Santissima Trinità e il San Michele Arnas Brozu di Cagliari e il Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Gianfranco Satta, consigliere regionale del gruppo dei progressisti e il primo firmatario di un'interrogazione rivolta al Presidente della Regione, all'Assessore della Sanità, nella quale si chiede di intervenire sulla pesante situazione che stanno vivendo in questi giorni i pazienti che hanno necessità di assistenza nei pronto soccorso isolani. È inconcepibile, si legge tra l'altro nell'interrogazione, che a due anni dall'inizio della pandemia tutta l'organizzazione della sanità in Sardegna si è affilata a iniziative estemporanee che non tengono minimamente conto delle necessità delle cittadine e dei cittadini e contribuiscono a rendere ancora più pesante il lavoro quotidiano degli operatori sanitari nelle ospedali dell'isola. Emblematico è quanto sta accadendo nel pronto soccorso dei centri periferici, ha aggiunto Gianfranco Satta, dove in caso di riscontrata positività al Covid-19 i pazienti vengono valutati via ordinaria solo a Cagliari e a Sassari. Significa che in tutti gli altri pronto soccorso dell'isola i pazienti ricevono assistenza solo per casi di condizioni di criticità tali da richiedere subito cure in urgenza, in caso contrario si attiva la procedura di trasporto verso i due centri maggiori. Sono tutt'altro che rari i casi di persone, ha concluso, specie anziane, che nei vari pronto soccorso sono costrette ad attendere per ora in ambulanza gli esiti di un tampone, in caso di positività vedersi trasportati verso i centri maggiori. E siamo al consueto aggiornamento sui dati, sui contagi. Purtroppo sono sempre alti i numeri, numeri che poi corrispondono a persone e a situazioni di emergenza. Sono 1.461 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 29.904 test eseguiti. Fra questi 4.636 sono stati test molecolari, 25.268 antigenici, la percentuale pari al 4,88. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32, uno in più rispetto al giorno precedente, quelli ricoverati in area medica 327, in questo caso una diminuzione di tre unità. Sono 22.577 le persone in isolamento domiciliare, in leggero calo, 29 persone in meno. Si registrano purtroppo ancora tanti, troppi decessi, 10. Un uomo di 67 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari. Un uomo di 67 anni, una donna di 87 anni e uno di 96 residenti nella provincia del Sud Sardegna. Una donna di 78 anni, residente nella provincia di Olistano. Quattro uomini di 58, 60, 88 e 90 anni e una donna di 81 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari. Ancora sanità. Il laboratorio di analisi dell'azienda sociosanitaria numero 7 è chiuso agli esterni. La protesta di rappresentanti dell'Associazione dei diabetici. Vediamo il servizio. I rappresentanti delle associazioni dei diabetici chiedono la riapertura del laboratorio di analisi dell'azienda sociosanitaria locale di Carboni e Iglesias agli esterni. Ci chiediamo, dice Fabio Sabeddu, presidente dell'Associazione Diabete Sulci Iglesiente ETS ODV, quale sia la logica che impedisce alla politica regionale di trovare soluzioni immediate che potrebbero momentaneamente consistere in un ordine di priorità nel richiamare in servizio i tecnici di laboratorio andati in pensione, nel potenziamento dell'organico del laboratorio o nell'aumento del budget dei laboratori privati convenzionati. Un territorio dove circa 10.000 persone risultano colpite dalla patologia diabetica e per le quali dunque il laboratorio di analisi rappresenta un presidio sanitario necessario per la diagnosi, il monitoraggio e la cura della malattia, aggiunge Riccardo Trentin, presidente della Federazione Sarda Diabete ETS ODV. Nessuna comunità e struttura ospedaliera può rimanere viva senza il supporto di un laboratorio di analisi efficiente e aperto anche agli esterni. Al di là delle soluzioni temporanee, la comunità del Sulci Iglesiente attende però e merita una risposta definitiva, conclude Riccardo Trentin, incardinata sul modello strutturato di una sanità che si qualifichi pubblica perché è capace di garantire sempre e per tutti il diritto alla salute dei cittadini. La Corte Costituzionale ha preso atto della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri che rinuncia al ricorso intentato contro la Giunta regionale della Sardegna per illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale recante disposizioni in materia di enti locali. E' così venuto meno l'interesse da parte del Governo nazionale di coltivare il ricorso in quanto ad oggi non esiste alcuna connessione causale tra la lesione dei principi costituzionali che si pensavano violati e la norma regionale stessa. La norma riguarda la possibilità da parte della Giunta Solinas di rimuovere i commissari o meglio gli amministratori straordinari in carica e poterli così sostituire. Finalmente ha detto l'assessore regionale degli enti locali Quirico Sanna, dopo continue impugnazioni c'è un ripensamento da parte del Governo che riconosce che non ci siano più i presupposti per l'impugnazione. A questo punto spero che sia l'inizio di un nuovo rapporto di leale collaborazione e con rispetto dall'autonomia che ci è data dallo Statuto. Chiaramente adesso prenderemo le giuste misure per continuare sulla linea tracciata dalla Giunta Solinas al concluso Quirico Sanna. Speriamo che ci sia anche un ripensamento sulla riforma degli enti locali per cui cerchiamo di tenere sempre saldo il contatto e le interlocuzioni che nonostante le posizioni ancora negative. Confidiamo nel dialogo e nel confronto per arrivare ad una soluzione positiva della questione relativa alla legge sugli enti locali. Passeggeri, merci, contenitori e crociere. È stato un 2021 positivo per i porti dell'autorità di sistema portuale Mare di Sardegna. Vediamo i particolari dettagli nel servizio. Bilancio positivo per i porti dell'autorità di sistema portuale Mare di Sardegna che chiude il 2021 con delle percentuali di ripresa che hanno superato abbondantemente le previsioni iniziali. A partire dei traffici passeggeri che dalla somma dei volumi movimentati nei principali porti commerciali Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci registrano un più 38% rispetto al 2020 passando da circa 2.965.000 unità dell'anno precedente a 4.083.000 del 2021. In linea anche il traffico delle rotte inferiori alle 20 miglia Santa Teresa e Porto Vesme che segnano una crescita del 39% da 492.000 a 684.500 unità. Positivo anche il mercato delle crociere che ha chiuso il 2021 con un più 731% rispetto al 2020 passando da appena 6.900 crocieristi a circa 57.400 della scorsa stagione. In recupero anche il settore delle merci che globalmente chiude il 2021 con un più 15% rispetto all'anno precedente da poco più di 38.362.000 tonnellate del 2020 a 44.136.000 tonnellate circa dell'annualità appena chiusa. Segnale positivo ma allo stesso tempo una battaglia ancora da vincere, quella della movimentazione dei contenitori. Chiudiamo il 2021 con percentuali decisamente incoraggianti che lasciano intravedere una definitiva uscita dal peggiore periodo di crisi, ha spiegato Massimo Deiana, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Nonostante l'aggravio dei protocolli sanitari sulla normale operatività da una parte e un irregolare andamento dei traffici dall'altra, gli scali di sistema, in particolare tutto il cluster portuale, hanno dimostrato al meglio una grande capacità di tenuta resistendo alla sferzata della crisi, rimanendo in gioco nonostante le numerose restrizioni, senza arrecare disagi alla mobilità dei passeggeri e delle merci. Siamo quindi pronti in questo 2022, ha concluso Massimo Deiana, a riguadagnare il culmine della risalita e a guardare al futuro con maggiore ottimismo, con scelta il fatto che ci attendono nuove e importanti sfide. Il presidente Federico Fantinella ha convocato una nuova riunione del Consiglio Comunale di Carbonia per mercoledì 2 febbraio alle 17 in presenza con il seguente ordine del giorno. Esame di emozioni, interrogazioni, interpellanze e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. 1 milione e 100 mila euro è la cifra messa in campo dal Comune di Pula per l'acquisto di alloggi da destinare all'edilizia residenziale. Il nostro intento, spiega la sindaca Kerlamelau, è agevolare i giovani e le famiglie nell'acquisto della prima casa, offrendo loro la possibilità di concretizzare il loro desiderio di vita nella nostra cittadina. Il nostro progetto, aggiunto, permetterà ai giovani e alle famiglie di non dover rinunciare a vivere nella nostra comunità, nel quale talvolta i prezzi sono risultati troppo onerosi per le possibilità delle famiglie e delle giovani coppie. Una volta acquistate le abitazioni da parte del Comune di Pula, queste verranno messe a bando e coloro che possiedono i requisiti potranno usufruirne con prezzi agevolati. Conti reti in oro gli astra, sette anni per riconvertire le greggi alle razze autoctone, una sconfitta per la Sardegna. Vediamo perché nel servizio. Sette anni per allineare tutti gli allevamenti che vogliono destinare il loro latte alla produzione di pecorino romano alle razze di pecora, sarda, compresa la subpopolazione nera di Arbus, razza Vissana, razza Sopravissana, razza Comisana, razza Massese e razza Pecora della Miata. Questa è la decisione assunta il 12 gennaio scorso dall'Assemblea del Consorzio del Pecorino Romano DOP, alla quale hanno espresso la loro contrarietà sia la cooperativa Pastori d'Orgali sia la cooperativa Armentizia Moderna di Cuspini. Deliberare sette anni per la riconversione delle greggi è un'eternità che non ha alcun fondamento scientifico, ha sottolineato il presidente di Codiletti Nuoro-Gliastra, Leonardo Salis. Tra l'altro, con i tempi del Ministero, gli anni si allungherebbero a nove. Non la vedo assolutamente come una vittoria, ma piuttosto come una sconfitta per chi come noi e tutti i pastori che si erano schierati per la toleranza zero alle razze diverse da quelle autoctone. Non siamo assolutamente contrari all'allevamento di pecore diverse da quelle autoctone, aggiungono i due presidenti della cooperativa di Dorgali e Guspini, Leonardo Salis e Roberto Tuveri, ma lo siamo per il loro utilizzo per la produzione del Pecorino Romano DOP, così come per tutte le altre DOP e i formaggi tradizionali, pecorini che come da tradizione appunto sono prodotti in Sardegna con latte proveniente da pecore di razza sarda allevate al pascolo. Attendiamo le motivazioni e i benefici che ne trarrà la filiera dalla decisione che hanno portato il consorzio dapprima ad aprire al 10% di latte di pecore di altre razze e successivamente alla decisione di estendere a sette anni il periodo di riconversione delle greggi. Siamo alla cronaca. Ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di Villanova, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata a Tortorì l'8 gennaio scorso da un 73enne del luogo imprenditore, hanno denunciato a piede libero per il reato di invasione di terreni o edifici di due tunisini rispettivamente di 46 e 53 anni, entrambi senza fissa dimora lavoratori stagionali. L'attività investigativa svolta dai militari ha consentito di individuare i quali autori dell'occupazione arbitraria della rimessa di un edificio situato in Viale Bonaria a Cagliari. I due avevano fatto ingresso all'interno dello stabile abbandonato, dallo spazio lasciato libero da un cancello metallico in parte deragliato dalle proprie corsie di movimento. Avevano portato con sé pochi effetti personali e realizzato due rudimentali giacigli sui quali dormire. Sono stati allontanati dallo stabile i due cani, uno con microchip e uno senza, di cui erano in possesso. Sono stati questi momentaneamente affidati al canile comunale, al quale potranno ora chiederne la restituzione. Incidente stradale nella tarda serata di ieri al chilometro 91 della vecchia strada statale 125. Secondo la prima ricostruzione, un 52enne di Terteni è uscito di strada, finendo violentamente contro le barriere stradali. A soccorrono il personale del 118 e i vigili del fuoco dell'istaccamento di Lanusei. Il 52enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Lanusei. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ierzu. Intorno alla mezzanotte, su richiesta del commissariato della Polizia di Stato di Siniscola, la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per l'incendio di un'auto in piazza Don Miglio Isi. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe di origine dolosa. È stata interessata la parte anteriore dell'auto. Nella giornata di ieri a Villa Cidro, per causa in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Renault Scenic condotta da un imprenditore cinese di 44 anni, il residente ad Oristano è una Renault Twingo guidata da una 61enne impiegata del luogo. A seguito dell'evento, la donna è stata trasportata con ambulanza da personale del 118 presso l'ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, Monreale, per accertamenti, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto per i rilievi personale della stazione di carabinieri di Villa Cidro. I documenti di guida e di circolazione di entrambe le parti sono risultati essere regolari. Mercoledì 2 febbraio, a Bitti, il Parco Naturale Regionale di Tepilora incontrerà in un'assemblea gli operatori privati e pubblici del territorio dell'area protetta sul tema del censimento della prossima Costituzione di un elenco dedicato a tali soggetti. L'appuntamento informativo, il primo dei quattro previsti in ogni comune del Parco Posada, Torpe e Lodè, si terrà a partire dalle 17 nella sala del giudice di pace in via Attilio De Feno. Interverranno il presidente e sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, la direttrice Marianna Mossa e l'esperta di marketing territoriale Letizia Marongiu. Durante l'iniziativa sarà presentato l'avviso, già pubblicato nelle scorse settimane e aggiornato alla data di scadenza del prossimo 4 marzo 2022 e le sue finalità. Una palestra a cielo aperto a Donistano al via al progetto sportivo ed educazione motoria nelle scuole primarie. Vediamo. Favorire la pratica sportiva e l'attività motoria tra i più giovani e contrastare i pericoli derivanti dai limiti imposti da due anni di pandemia è l'obiettivo di Oristano, una palestra a cielo aperto, progetto proposto dall'associazione sportiva Gymland e approvato dalla giunta comunale. Due le scuole primarie coinvolte, quella del Sacro Cuore e quella di Sarodia, che hanno risposto all'invito del Comune con la partecipazione di 42 classi e 760 bambini. Il Covid si combatte non solo con i vaccini e i tamponi, mascherine e distanziamento, ma anche con iniziative concrete per l'integrazione. ha sottolineato l'assessore dello sport e delle politiche giovanili Maria Bonaglia Zedda. Oristano è stata città europea dello sport non solo per le grandi manifestazioni di livello nazionale e internazionale, ma anche perché ha una comunità di sportivi molto attiva. Coltiva i veri valori dello sport e crede che quei valori debbano essere insegnati in primo luogo ai giovani. Lo sport insegna proprio questo e grazie alla felice intuizione della Gymland, il Comune di Oristano e le scuole vogliono agire in questa direzione a favore dei più giovani che in questi due anni hanno sofferto molto. In palestra si vuole facilitare l'acquisizione di abilità e tecniche nella palavolo e nella ginnastica artistica e sviluppare la coordinazione fine attraverso la giocoleria. Con le attività all'aperto si cercherà di educare gli alunni ad un corretto rapporto, con la natura e promuovere la conoscenza degli ambienti naturali e l'attività sportiva in sicurezza. È una straordinaria iniziativa di promozione sportiva e motoria rivolta agli alunni delle scuole elementari, ha osservato da parte sua il sindaco Andrea Luzzo. Il progetto nasce con l'intento di arricchire le opportunità formative attraverso una progettualità condivisa e integrata tra il Comune, le scuole e la Gymland, in un momento in cui la pandemia condiziona fortemente le attività di tutti e soprattutto quella degli studenti. Siamo al calcio nella parte conclusiva del telegiornale. Un 1-2 micidiale di Diachitesco in avvio di ripresa ha deciso a favore della squadra sassarese il recupero tra Afragolese e Torres disputato ieri sul campo della squadra campana. I tre punti consentono alla squadra di Alfonso Greco di continuare a coltivare il sogno promozione diretta. Alla vigilia del confronto con la capolista Giuliano in programma domenica, ricordiamo che all'andata, all'esordio in campionato, Giuliano si imposa l'acquedotto per 1-0. Le due squadre sono ora divise da due punti in classifica ma la squadra campana deve recuperare una partita. Nell'altro recupero disputato ieri, il team Nuova Florida ha espugnato il campo dell'Aprilia 2-1 confermandosi in gran forma ed ora è terza in classifica. La squadra laziale ha 7 punti dall'avventa ma con 3 partite da recuperare, 2 in più rispetto al Giuliano. Per la promozione diretta quindi in Lega Pro si profila al momento una lotta a 3 fra Giuliano Torres e team Nuova Florida. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale odierno, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato fin qui, darvi appuntamento alle prossime edizioni e naturalmente augurarvi anche di trascorrere ancora una buona giornata. Grazie a tutti.